è tutto il giorno che ho voglia di cioccolato ok sono 2 e 50 non so se ci arrivo cavolo scusi sono in debito con lei non credo proprio benvenuta a casa signorina non male sul serio guardia la pelliccia ecco qui grazie si gode il tempo in vasca puzzo come un maiale è quello che credo che sia ok ehi dov'è l'asciugamano? è ridicolo tutti i miei ma certo signorina ma come fai ad essere così brava? sì! beh passo tutto il tempo qui io scusi vai ok vediamo che c'è vediamo un film non c'è niente da fare qui oh 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 non di nuovo aha oh sì oh 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 ehi basta con quel baccano su ok beh è meglio di nulla ok ok grazie che dici va bene per te? sì comincia hai soldi? hai soldi? oh 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 sì fatto sì mi piace oh ma accidenti ne voglio uno anch'io oh ehi sì 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 di nuovo quello che mi serviva beh sembra proprio che oggi faccio la tatuatrice ehi oh figo wow lo vuoi anche tu? sì almeno passo un po' il tempo oh oh che sta succedendo? sì oh wow ehi questa è una prigione e mica una discoteca guarda non sembra divertente oh sì certo posso unirmi a te ti va? ma certo oh oh eh che silenzio assurdante uffa oh 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 il rumore dei miei pensieri mi farà impazzire non c'è niente da fare oh Ehi, piccolo! Ti piace divertirti, no? Ma com'è buio! Oh, meglio! Vieni con me! Finalmente! Andiamo! Salve! Prego! Ok! Ehi, vieni qui! C'è un pacco per te! Grazie! Un cornetto, sì! E anche uno scarpello! Non sapevo potessi scavare in quel modo! No, 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 no! Non lo prendo, grazie! Wow! Non importa se sei ricco o povero, stare in prigione non è mai divertente! Condividi il video con i tuoi amici per farli ridere e per ricordar loro di stare lontani dai guai! Iscriviti al canale per non perderti il divertimento! No! No!